Musica Buonasera e bentrovati a tutti i telespettatori di Caffè TV 24 da Eleonora Passarella in questa nuova edizione del TG Padova. Iniziamo con la notizia sulla fine dello stato di emergenza Covid dove proprio da oggi 1 aprile si torna a respirare aria di normalità con l'allentamento delle misure di contrasto alla diffusione del virus. È proprio da oggi infatti che tornano anche al 100% le capienze dei bus dal trasporto pubblico standard ma senza i mezzi aggiuntivi confermando così il servizio ma senza più contare sulle aziende private che durante il periodo emergenziale invece erano state coinvolte per il trasporto dei cittadini e dove sul tema il Ministero nella comunicazione alle prefetture apriva la possibilità di rinnovare il rapporto di collaborazione qualora necessario ma vista la mancanza delle coperture finanziarie per rinnovare i precedenti accordi. Il prefetto Grassi si è riservato di procedere con una nuova soluzione per ovviare i nuovi asset in maniera sostenibile e sicura incontrando le esigenze dei fruitori ma anche per l'amministrazione. Sul tema dei contagi invece, secondo il report sui dati relativi ai nuovi casi di positività, sono 7.333 i nuovi contagiati individuati in Veneto nelle ultime 24 ore tramite screen tampone. Un dato che purtroppo conferma il nuovo palzo del virus con 11 le vittime. E dove a crescere sono anche i numeri ospedalieri con 840 malati covid in area medica con 15 nuovi ingressi, mentre a scendere leggermente sono i ricoveri in terapia intensiva con 59 degenti. Sul tema della campagna vaccinale, nella giornata di ieri sono state somministrate complessivamente 3.000 vaccinazioni, di cui 103 prime dosi. Mentre proprio da oggi non è più necessario esibire il Green Pass per accedere agli uffici pubblici e ai negozi, ma anche per musei, mostre e biblioteche dove rimane però l'obbligo di indossare la mascherina protettiva, anche semplicemente la mascherina chirurgica. Niente Green Pass anche per sedersi in bar e ristoranti all'aperto e per il trasporto pubblico locale, ma qui sempre muniti di FFP2. Per accedere a cinema, teatri, concerti, palestre e piscine al chiuso invece fino al 30 aprile rimane l'obbligo di presentare il Super Green Pass con mascherine FFP2, mentre per questi svolti all'aperto è sufficiente il Green Pass base. Proprio in questi giorni, con nuovi incarichi, diversi invece insegnanti sono tornati al lavoro dopo la sospensione. Sono infatti 5 gli insegnanti Innovax del Padovano che ritorneranno così anche ad essere retribuiti. Voltiamo ora pagina per parlare del tema economico con l'ulteriore nota d'arresto del settore turistico a causa della guerra in Ucraina. Le tensioni internazionali stanno infatti colpendo duramente la ripresa del settore dove dati allarmanti a Padova parlano di una perdita da 2020 pari a 2,5 miliardi di euro. Un ulteriore shock che si aggiunge a quello che ha investito il settore durante la pandemia facendo crollare il sistema in uno sforzo di resilienza ha messo in ulteriore difficoltà anche a causa dei rincari. Con la guerra nell'est europeo infatti la parte di quel turismo rappresenta una lacuna per un settore che nella provincia di Padova coinvolge più di 6.500 imprese e dove proprio nelle città d'arte si denuncia un meno 39% in termini di presenze. Pre-Covid, secondo la stima dell'osservatorio economico della Confese Ercenti, il settore generava un fatturato di 1,9 miliardi con un valore aggiunto nell'indotto fino a 2,3 miliardi mentre nel 2020 l'ammazzata con una perdita di presenze oltre il 60% e un indotto ridotto a quasi 1,4 miliardi. Nel 2021 poi la tiepida ripresa con un meno 50% nelle presenze e si misura ancora in termini però di perdite quantificabili quelle dell'indotto in 1,15 miliardi. L'innovazione e la sostenibilità in tema di mobilità si sono potuti vedere ieri in Prato della Valle con i moduli Next, in un mondo in cui l'obiettivo per un pianeta più green ha preso forma nelle linee guida previste dalla Comunità Europea e delle Nazioni Unite nell'impegno trasversale congiunto per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050 attraverso la trasformazione dei settori produttivi, delle industrie, del residenziale e della mobilità. L'innovazione tecnologica rappresenta una componente fondamentale per attuare proprio quella transizione ecologica di cui tanto si parla. E proprio ieri sul tema della mobilità sostenibile presso la loggia Amulea del Comune di Padova la presentazione del report sulla sperimentazione dei moduli Next della start-up innovativa incubata nell'app Paradigma certificata dal Ministero dello Sviluppo Economico che ha visto il suo ideatore, l'ingegnere Tommaso Cecchelin, fornire le risposte ad una vera e propria doppia responsabilità per migliorare la vita di tutti in una Padova Pilot City del progetto europeo Sprout nell'ambito del programma Horizon 2020. Durante la conferenza sul report dei dati della sperimentazione sono intervenuti l'assessore alla mobilità Andrea Aragona, il fondatore di Next Future Transportation, Tommaso Cecchelin, alla presenza dell'onorevole Alfonso Pecoraro Scanio che dopo le due giorni in Senato dedicata al tema sull'indipendenza energetica e co-digital aveva visto Next, lo spin-off di Paradigma Expofin, come protagonisti. Vediamo. Io credo che l'Italia può fare molto perché abbiamo tecnologia, competenze, tante intelligenze e oggi sono qui a Padova dove ho portato bene perché dopo tre mesi di siccità c'è la pioggia e dove presentano e io sostengo questa idea di un progetto di mobilità sostenibile che ho avuto il piacere di vedere ad Expo Dubai prima e che rivedo qui su strada. Quindi credo che questa sia la dimostrazione che si possono realizzare sistemi di mobilità sostenibile 100% made in Italy e questo fa parte della rete Eco Digital, transizione ecologica e digitale per salvare la terra in realtà e per salvare noi stessi dal rischio dell'estinzione ma anche per creare lavoro e occupazione perché questo può diventare un tipo di progetto che si può vendere in tutto il mondo e che soprattutto si può usare in Italia per abbattere l'inquinamento atmosferico per esempio di tutte le zone della pianura padana che sono le zone in Europa che hanno il maggior tasso di mortalità dovuto all'inquinamento dell'aria e alle malattie cardiorespiratorie. Quindi facciamo bene all'ambiente e alla salute e all'economia. Noi pensiamo che la mobilità sia uno dei temi fondamentali, ce ne sono tanti ma la mobilità è uno di quelli fondamentali per portare avanti la transizione ecologica. Lo si può fare con un approccio integrato quindi non solo con un'unica risposta. È per questo che noi stiamo portando avanti diversi progetti da quelli più tradizionali come l'implementazione della rete di piste ciclabile attraverso il progetto della Bici Pulitana attraverso progetti di trasporto pubblico come i bus elettrici ma anche le nuove linee di tram e anche attraverso dei progetti più sperimentali come appunto NEXT. È ovvio che la risposta che potranno dare queste soluzioni non sarà domani però ci piace guardare anche al dopodomani perché quando fra qualche anno la società avrà introitato nuovi modelli di muoversi, avere nuove tecnologie già testate e disponibili per l'uso ci potrà rendere più competitivi perché avremo già un modello pronto e saremo già pronti per quella che sarà la città del futuro che lo è già in parte oggi ma l'evoluzione è continua e noi dobbiamo stare lì dietro. NEXT è un progetto che basa la sua innovazione fondamentale sulla modularità con la modularità ovvero i primi numeri possiamo agganciare da 2 a 5 moduli per adesso quindi arrivando alla stessa capienza di un autobus da 12 metri con 5 moduli noi andremo a bilanciare il numero di veicoli sulla domanda giornaliera con questo sistema andiamo ad arrivare ad un risparmio energetico e quindi anche in termini di costi tra il 20 e il 60% 20 nel peggiore dei casi, 60% nel caso diciamo teorico questo significa che in un anno per ogni singolo autobus elettrico che viene sostituito con il sistema NEXT noi andiamo a risparmiare dai 7.000 ai 15.000 euro e se noi andiamo a pensare che questo sistema andrà in questo momento anche a sostituire degli autobus diesel il risparmio è triplo se non quadruplo questo significa che noi non stiamo semplicemente innovando rispetto al passato ma stiamo innovando rispetto al presente e in parte anche rispetto al futuro e sempre in città, proprio oggi alle ore 18, aperto a Patova la mostra gioielli in fermento con una duplice edizione del concorso internazionale 2021 e che proprio quest'anno festeggia anche i suoi primi 10 anni e così nella splendida cornice degli affreschi del 500 nel prezioso oratorio di San Rocco sono oltre 110 i pezzi che potranno essere ammirati e tra questi anche le opere premiate dalla prestigiosa giuria che ha assicurato la straordinaria disponibilità ad esaminare due sessioni di vere e proprie opere d'arte gli autori provenienti da oltre 20 paesi del mondo presenteranno così quella che rappresenta a tutti gli effetti l'espressione artistica di veri e propri atti demiurgici di gioielleria nella lettura dialogica di un'osmosi fatta di sfumature, di appartenenza culturale e influssi di un mondo che cambia ma soprattutto fortemente cambiato Vediamo Infermento nasce dieci anni fa dalla voglia di unire la passione per il gioiello contemporaneo che mi ha sempre accompagnato nell'ammirazione di tanti colleghi artisti e una passione per il mio territorio, per il territorio che ospita il territorio italiano collinare, il territorio delle vigne e l'approccio di questi, del lavoro, della lavorazione di questo materiale così umile e può dare prodotti così raffinati Allo stesso modo, l'interpretazione degli artisti può dare realmente un risultato inaspettato come potete vedere in questi dieci anni di lavori e soprattutto in questa doppia edizione biennale 2020-2021 che è stata travagliatissima, che è stata attraversata da tante difficoltà che ha prodotto un premio, una mostra virtuale che finalmente si traduce in qualcosa di reale e tangibile che spero emozionerà come emoziona a me da dieci anni questo lavoro In questi ultimi anni l'oratorio di San Rocco si è venuto a caratterizzare come uno degli spazi più interessanti vocati al gioiello d'arte contemporanea e si inserisce una grande tradizione, quella della scuola Orafa Padovana che fa sì che la nostra città a pieno titolo possa essere considerata una delle grandi capitali internazionali del gioiello d'arte contemporanea all'interno di questa mostra internazionale sono presenti ben 20 paesi 110 pezzi di artisti provenienti dal Canada dall'Australia, dalla Corea, dal Giappone, dal Messico, dal Brasile quindi sempre più una vocazione internazionale ma mi piace anche sottolineare come vi sia una continuità storica Giacomo Pinton, nipote di Pinton fondatore della scuola Orafa Padovana è stato premiato all'interno di questo concorso quindi un'apertura internazionale ma anche un grande radicamento della nostra comunità locale fatta di grandi artisti è il 12 giugno la data scelta che porterà la città di Padova e di ben 18 comuni della provincia alle urne non solo per l'elezione dei sindaci ma anche per pronunciarsi su cinque quesiti referendari si voterà così ad Abano Terme Conselve, Gazzo, Granze, Loreggia, Lozzo a Testino Merlara, Padova, Piombino Dese, Pozzonovo, San Martino di Lupari Sant'Urbano, Saunara, Teolo, Torreglia, Veggiano, Vescovana e Vigonza sul tema referendario invece la riforma del CSM l'abolizione della legge Severino i limiti agli abusi della custodia cautelare la separazione delle funzioni dei magistrati ma anche sul voto degli avvocati nei consigli giudiziari sulle valutazioni dei magistrati un contributo ecologico per Padova nella sfida per ridare slancio e costruire il senso di comunità e rendere così la città più accogliente una misura d'uomo ma anche abitabile attraverso la ricucitura delle fratture insomma una città del futuro sono queste alcune delle proposte che passano nella candidatura dei Verdi per l'Italia nelle amministrative della città di Padova che si terranno proprio quest'anno dove a scendere in campo nella corsa per Palazzo Moroni e anche Sebastiano Arcoraci che con un vero e proprio sondaggio ha chiesto ai padovani di esprimersi su alcuni aspetti che ritengono necessari per migliorare la qualità e lo sviluppo della città vediamo abbiamo fatto questo sondaggio che troverete anche online sulla nostra pagina e spiegabilmente anche a sorpresa e piacevolmente abbiamo visto che 500 circa cittadini senza pagare il sondaggio naturalmente come fanno in molti che si fanno fare i sondaggi prodomo sua che gli danno super vincenti eccetera abbiamo più modestamente chiesto quali tematiche ritieni necessarie per migliorare la qualità e lo sviluppo di Padova ecco come pensavamo questa non è una sorpresa al primo posto mettiamo insieme le due azioni dell'ambiente quella sulla qualità e quella sulla transizione ecologica siamo circa al 26% come vedete dopo a sorpresa e ci è piaciuto molto perché è una proposta che faremo in questi giorni ufficializzeremo poi domani se saremo in amministrazione la porteremo avanti è l'assessorato alla musica quindi Padova diventerà la città della musica a livello internazionale perché oltre a UBS Pitta Padova per fortuna ha un'eccellenza nella musica come sapete i solisti veneti l'orchestra di Padova del Veneto i Pollini ci danno tutta questa risonanza a livello internazionale e noi pensiamo che questo sia un argomento da portare avanti insieme all'UBS Pitta e insieme alle bellezze della città del 300 che è Padova quindi si qualifica si piazza addirittura prima fra le proposte singole poi abbiamo la legalità e la sicurezza con un'azione particolare che propone la polizia di prossimità quindi la polizia di quartiere che è stata completamente abbandonata anche dall'ultima giunta che invece noi riteniamo sia molto importante e quindi la legalità e la sicurezza in qualche modo è ancora un tema importante e poi la mobilità anzi prima ancora di questo la mobilità quella sostenibile che è fatta come diceva anche in questi giorni il nostro menorello sia di tram ma anche di bus elettrici di taxi collettivi e di tutti i mezzi alternativi che possiamo usare è una città intelligente smart non si affida solo a uno strumento quindi anche questo come vedete ha ottenuto il 14% praticamente e poi lo sport che evidentemente in questo periodo di covid noi non ce l'aspettavamo questa forse una sorpresa in cui molti giovani sono rimasti a casa si sono appesantiti questo ci creerà problemi anche di salute e benessere per il futuro quindi con interventi anche medici noi proponiamo se diventeremo importanti nell'amministrazione una card per giovani e giovanissimi in cui attraverso le federazioni sportive e le associazioni sportive direttantistiche promuoviamo lo sport come mezzo non solo per promuovere lo sport agonistico ma come mezzo per promuovere il benessere Assindustria Veneto Centro lancia il progetto Sostenibilità per portare alle piccole medie imprese questo asset fondamentale di competitività un grande progetto per diffondere la cultura e le pratiche della sostenibilità nelle piccole medie imprese di Padova e di Treviso con servizi dedicati di consulenza formazione e assistenza e questa infatti la proposta di Assindustria Veneto Centro che verrà presentata nel corso del webinar alle imprese protagoniste della transizione sostenibile che si terrà martedì 29 giugno alle ore 16 e 30 e sempre di oggi anche il messaggio augurale ai fratelli e sorelle di fede musulmana del vescovo Claudio Cipolla per l'inizio del Ramadan un augurio che abbraccia il dialogo in nome della pace nella condivisione e nell'integrazione reciproca nell'ambito dell'ordinario controllo del territorio i finanzieri del comando provinciale di Padova in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del vento hanno scoperto un deposito non autorizzato presso un'azienda agricola sita nel comune di Vigo d'Arzare Padova dove erano accumulati rifiuti di vario genere per un peso complessivo di 200 quintali circa di rifiuti speciali non pericolosi in violazione delle prescrizioni normative in materia ambientale e tra cui scarti industriali e stampi di legno in parte riutilizzati per varie finalità come la combustione i finanzieri del comando provinciale di Lodi impegnati nelle attività di contrasto al fenomeno del sommerso da lavoro e alle connesse manifestazioni di legalità hanno accertato l'impiego di tre lavoratori completamente in nero e 20 irregolari presso un'impresa operante nel settore dei lavori di meccanica generale nell'Odigiano sulla base di queste risultanze sul conto del titolare dell'impresa ispezionata sono state elevate sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di 7.200 ad un massimo di 43.200 euro per ciascuno dei tre lavoratori impiegati in nero nonché da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro per ognuno dei dipendenti irregolari individuati sul conto dell'impresa ispezionata è stato anche riscontrato un indebito risparmio d'imposta relativo alle ritenute non operate e non versate quantificato complessivamente in oltre 35.000 euro a seguito di un'indagine del nucleo di polizia economico finanziaria di Milano una multinazionale del lusso ha dovuto definire la propria posizione con il fisco italiano versando nelle casse dell'erario la somma di 187 milioni di euro a titolo di maggiori imposte dovute sanzioni ed interessi alle 21.55 di giovedì i vigili del fuoco sono intervenuti in corso Fogazzaro all'altezza di piazza San Lorenzo a Vicenza per l'incendio di una mansarda posta al quarto piano di una palazzina nessuna persona è rimasta ferita i pompieri arrivati nell'immediatezza dalla centrale e successivamente da Arzignano Tiene e Patova hanno iniziato le operazioni di spegnimento mentre i residenti dei diversi piani sono stati evacuati le squadre operando dall'interno e dall'esterno con le autoscale sono riuscite a spegnere l'incendio evitando che le fiamme si potessero propagare i tetti delle abitazioni affiancate e all'intera struttura danneggiata la mansarda e il tetto con danni da percolazione anche ai piani inferiori le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco dove invece le operazioni di soccorso delle ultime squadre sono terminate alle 3.30 con il controllo di tutte le travature per escludere eventuali focolai di solito 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 di solito